bene a tutti ragazzi ben tornati in questo nuovissimo video oggi siamo qui tornati insieme a tre persone salutate ciao ok vabbè ovviamente Manu va bene non parla però fate fin da che ha salutato anche lui vedete sta ballando vedete balla la park dance se non mette pronto però lo vado a picchiare allora cosa andremo a fare oggi vabbè voi il titolo l'avete già letto non so manco che titolo metterò però l'avete già letto e andremo a crocivia conici siccome i 7 stanno combattendo contro l'ordine immaginario per riconquistare crocivia conici abbiamo messo tutte le skin dei 7 che abbiamo per andare a crocivia conici ad aiutare i 7 a riconquistare crocivia conici ok no un attimo hai sbagliato due frasi non ho sbagliato nulla perfettamente detto tutto giusto no no non dico dobbiamo aiutare i 6 e noi siamo le skin dei 6 si va bene dai lasciamo stare però dragox non parli ti sei no sono io abbiamo anche la corona ragazzi negli ultimi due video abbiamo non so quando li avete visti però vabbè no mi sa che questo qua vedranno prima vabbè lasciamo stare sto zitto che è meglio abbiamo la corona quindi proviamo anche a vincere ovviamente però l'obiettivo è aiutare i 7 non so per dire i 6 però dovete iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciarle commentare e condividere e ora possiamo iniziare allora ragazzi sapete già come combattere voi siete esperti ragazzi dobbiamo sparare le guardie non so se avete capito l'obiettivo del video però questo era intruso era un intruso ma smetti l'intruso dov'è siamo i 7 non dobbiamo aiutarli noi siamo i 7 dobbiamo riconquistare i crocivia conici aiuto ok fase 1 completata giusto ragazzi è morto scienziato lo sappiamo che da anni non è molto bravo a non fare niente a sviluppare i piedi non sia come lo pare che era la seconda ondata non c'è ancora ragazzi c'è anche un infiltrato ma mi dico non lo so combattere anche io non mi supporto fondazione fondazione curate in fondazione stiamo aiutando le guardie noi oddio c'è anche il mio autonante e quello fake non ti preoccupare ragazzi c'è un infiltrato c'è anche un infiltrato un infiltrato ci sono due filtrati adesso mi riprende arrivo ci sono due infiltrati io sono gli infiltrati sono qua da me vengo a salvarlo un è morto degli infiltrati infiltrati io ho fatto dietro di te io aiuto le sentinelle con il piano voi andate ad ammazzare infiltrati ragazzi stanno ributtando l'infiltrati stanno ributtando ragazzi attenti sono molto forti io aiuto gli altri chi lato gli infiltrati gli infiltrati sono deciduti tutti a posto mi serve una mano ripeto mi serve una mano ok serve una mano dobbiamo distruggere dobbiamo distruggerli ho sputato sullo schermo che schifo aiuto mi sono tolto di bene non mi serve se bene più più o meno più o meno ragazzi ma cosa qui è l'ultimo mandato il gelato d'immagine cavolo a te vuoi che dai quelli che combattono meglio vieni da qua morti non dovevo mangiare il gelato d'immagine prima di combattere i 7 vincono abbiamo vinto la prima battaglia ora dobbiamo vincere la seconda cioè la partita ragazzi sono stato il più fondamentale si tu sei il membro ovviamente più fondamentale mano origine mi potresti dare la tua metretta leggendare che mi hai palesemente rubato no ho idea che mi tratta ma non sei te origine ma non mi sono che origine è vero qualche problema con l'esercizio una scarsa un'occhio una scarsa ragazze abbiamo un bigola un po' di sentinelle è stato un piacere combattere con voi origine per non mi hanno difeso non ti hanno difeso e l'obiettivo da se in realtà sarebbe tornare in si vedete stanno ballando stanno festeggiando e ci hanno regalato anche la coppa di questa ceppa non te lo volevo dire così ma non ce l'ho io ladro falso molto stroppo traditore della patria ragazzi origine invece è esploso andiamocene niente budino però niente budino per oggi ecco è esploso no ma pure origine ce l'aveva una origine ce l'aveva è andato in missione origine ragazzi si è andato sai dove hk dai raga la prima missione è finita ragazzi ci stanno sparando ragazzi ci stanno noi dobbiamo combattere contro tutti prima linea ragazzi gli avversari sono l'ordine immaginario non dobbiamo risparmiare nessuno tranne i nostri membri capito? oh chi l'ha? lo so gli avversari sono dei membri dell'ordine immaginario quindi dobbiamo sconfiggerli c'è uno l'ha? c'è uno l'ha? la correggo dobbiamo riconquistarla è vero esatto distruggerò il il dirigibile io direi di avere tutti un lanciarati anticarro con quello potremmo distruggere tutti i ehm le le difese nemiche come ehm come va bene abbiamo capito va bene allora vabbè l'ho scienziato ha qualche problemino 7 entrate fondazione ha bisogno? esatto andiamo da fondazione venite arrivo troppo arrivo troppo devo fare una cosa due secondi dobbiamo entrare nel nostro palazzo principale arrivo subito arrivo subito ok si signor fondazione salve aspettiamo lo scienziato vi volete muovere? allora io mi siedo intanto mi accomodo sono ancora arrabbiato con lui con chi io? con lo scienziato? con l'origine con l'origine con l'origine origine si muova mi ha mangiato il bulgine che aveva lasciato nel frigo origine lei si deve vergognare si vergogna scienziato scienziato venga fondazione ci deve parlare fondazione ci dica ci dica scienziato sei seduto al posto di fondazione allora sono bello fondazione si sieda ah no 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 non mi siede sono bello ok stia fevo lei oggi oggi siamo stati dei grandi ok riusciti a conquistare crocevia però ci potrebbero essere altri attacchi a crocevia quindi dovremo sempre stare in allerta va bene ho mandato dei soldati a controllare a tenerla d'occhio però non è sicuro al 100% che rimarrà al sicuro sono le sentinele giusto? esatto ok qual è il prossimo obiettivo? ci parli del prossimo obiettivo il prossimo obiettivo sarà sconfiggere gli altri soldati nemici che sono rimasti ancora in giro quali sarebbero? prima ho visto un'astronave prima ho visto un'astronave atterrare con moltissimi soldati minimo 50 dovremo sconfiggere tutti se vogliamo ottenere la vittoria è un gioco da ragazzi è un gioco da ragazzi per lo scienziato anche per me origine non lo so visto che è un po' un pirla però origine mi sa di si è stato ferito nella battaglia non ricordo è stato ferito nella scorsa battaglia se vi ricordate ma pazienza ragazzi un attimo per tutti i gitti vi devo presentare il mio nuovo piccolo animaletto qual è il tuo nuovo? qual è il tuo piccolo animaletto? non mi abbraccio mamma mia che mamma mia mamma mia guardate cosa ho creato con tutte le risolte si ma tu non hai la patente quindi guido io grazie allora scienziato mi faccio guidare io avrei un certo ruolo e vorrei sparare io dobbiamo andare a conquistare ragazzi ci stanno attaccando ci stanno attaccando sento delle guardie carri armato ragazzi ci ho carri armato vi comunico che ci ho carri armato eccole combattiamo avete interrotto il mio avete interrotto il mio discorso da nerd anche da dietro anche da dietro c'è un carro armato attaccate soldati e lo scienziato non è ceduto soldato soldato scendete bravo fondazione ha distrutto il ragazzo sulla torretta no no aiuto 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 no ragazzi combattete combattete soldati è morto una guardia manca qualcuno aiuto 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 massimo supporto è morto e fondazione curiamo tutti scienziato ha un piano per tornare in safe senza morire e dobbiamo usare il nostro piccolino ma mi sa che è un po' esploso non riesco a curarla si ma sia calmo mi sa che dobbiamo affittare questo taxi mi sa che è l'opzione migliore affittiamo il taxi a qualche problema al cuore no guido io si ricorda salita 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 che cosa aspettate salita 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 un attimo salita dobbiamo correre fondazione come si sente scienziato come state scienziato ha qualche problema al cuore fondazione lei come sta dobbiamo riparare la tutta di origine la mia ragazzi questa macchina sembra che trema non lo so non capisco ha qualche problema il budget era poco ok mi dica assenzionato ragazzi sono pericolosi questi sono pericolosi c'è gente c'è gente ci sono guardie dappertutto altre guardie sono guardie che volano sul dirigibile dell'ordine immaginario eliminato ma non sono tutti boti è stato bellissimo ci sono delle guardie sopra il dirigibile ok è stato bellissimo non è finita la guerra è stato bellissimo è stato bellissimo è un piacere essere al suo fianco anche per me può spruzzarmi le vostre tute sono molto andate a fare in quel paese infatti ehm ragazzi dobbiamo salire su questo dirigibile ecco lo scienziato è già salito per studiare un po' la situazione lo scienziato è un grande lui sì sì che sa cosa fare devo potenziare le vostre tute sono a una basea dove cacchio è la macchina dove sono sono qua sotto sono qua sotto è un altro attacchiamo attenzione va a mettere la tibia la tibia no 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 è qua sotto ragazzi il visore in posse ragazzi il visore di fondazione è la tua pezzi la tibia c'è Gunnar tutto rotto stavo io a Gunnar no no riposati fondazione riposati fondazione si riposa si deve riposare adesso state tutti bene? avete qualche problema di salute qualcosa? abbiamo uno scienziato con l'asma eh ragazzi oddio c'è un soldato non c'è ragione non c'è ragione è rotta fondazione ragazzi c'è altra gente ci sono altre guardie allontana di me dalle guardie sono qua in zona ragazzi sono qua in zona fondazione tutto bene? vedo che lei lo sta molto al top si tenga a questo medikit io sono morto a terra un altro si grande grazie grazie iniziato lei veramente il number one c'è altra gente che sparà oddio lo vedo questa guerra è faticosa sono qua sotto questa guerra è super faticosa noi siamo i migliori la ringrazio anche per aver scelto meno quell'altra strozza di mia sorella grazie mille ehi ma ho sempre tua sorella immagino si è vero è mia sorella quell'altra non so manco come si chiama paradigma ci ha traditi paradigma non è mia sorella un'altra è mia sorella e non so manco dov'è paradigma è un'altra paradigma è ragazzi è da 5 anni che è un'altra paradigma non so se scusarla paradigma c'è traditi non si sa se tornerà oppure no è scomparsa non so se scusarla non so non so c'è gente in volo c'è gente in aria nessun nostro palazzo ma io volevo dire una cosa da tre ore nemmeno vuole parlare siamo in guerra siamo in guerra allora io sono qua con le indigenti immagine come aiuto 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 immagina io ma come sei una delle combattenti più forte e chiedi pure aiuto grazie di aiuto ci mancherebbe ciò che parla lei parla lei che ha l'asma c'è il mio amore lo spazio un colpo e non so ragazzi siamo in cielo io non favo un'azione ecco lo so mi crede usati razzi per l'acquario si lanciano aiuto andiamo usiamo i nostri i cannoni dei nostri lignici avevo tutto in frontumi fondazione come sta fondazione ci aiuti io ho prenduto un sacco di piani per te per la tutta l'oppolenza zitti non litigate adesso c'è gente c'è gente ci sono altre guardie mi sa che c'è anche una relazione eccole io sarai incapace si ma se ti prendi sul lavandino ma che vuoi tu io sono il più intelligente mi volete aiutare? grazie voglio stare calmo perché non sono un tipo che vado con la cattiveria mi aiuto in questo caso sarebbe ma ci sono un attento ma ci sono una cattiveria soldato guardate che sto combattendo non bisogna essere dei filosofi in questo momento mi ha già serato uno bisogna essere dei guerrieri oh ma qui c'è origine in questi momenti i filosofi muoiono infatti mi ha ucciso uno aiuto ho bisogno di aiuto c'è troppa gente ci sono troppe guardie arrivo no fondazione ci stanno bombardando una granata fondazione no 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 lo scienziato siamo nella merda siamo nella merda abbiamo conquistato croce di ama ora siamo nella merda pronto immagine tutto a posto non tutto bene allora mi sa che sono Paul anche lui è andato sotto il buillo aiuto ok ragazzi siamo contro uno c'è l'ultima guardia ripeto c'è l'ultima guardia oh mio dio c'è l'ultima guardia ripeto scienziato mi sente? sì sì c'è l'ultima guardia stiamo per combattere contro l'ultima guardia signore sto controllando il tuo sistema è tutto bugato devo ripararlo stai continuando a ripetere sempre la stessa parola non sì abbiamo conquistato una mappa di ford fondazione è tutto non